ciao amici di retro ridicola e ben ritrovati nel nuovo video io sono sempre mauro e oggi mancando simon abbiamo un nuovo amico abbiamo il nostro otto matone e parleremo in un prossimo video di lui c'è uno qua per adesso e partiamo alle cose importanti oggi gioco che voglio parlarvi double dragon in versione arcade un titolo che amo tantissimo è un gioco famosissimo forse non il primo picchiaduro ma sicuramente il primo picchiaduro a avere un impatto importante nella storia dei videogiochi trama i fratelli billy e jimmy lee sul finire di una terza guerra mondiale devono salvare la bella marian la fidanzata non si sa se di billy o jimmy alla fine si meneranno per stabilire chi è il fidanzato ufficiale dei cattivissimi black warrior è un titolo semplice immediato pochi livelli ma tanti contenuti prende prende tantissimo i personaggi hanno diverse mosse possono agire i pugni calci la famosa comitata che è quasi come barale perché la mostra che stende tutti molto facilmente alla fine di ogni livello c'è il solito boss grande grosso e cattivo spesso uno maccione a volte colorato di verde sempre per ricordare l'amico hulk si possono poi prendere degli oggetti come pugnali fruste i nemici sono i classici teppisti di strada quindi abbiamo le signorine bene con la frusta il rastone il punk e via dicendo il gioco è molto colorato soffre di qualche rallentamento dovuti alla poca potenza delle macchine che c'erano allora ma che ci sta tant'è vero che la versione emulata prevede questo rallentamento noi qua elettori di colla giochiamo alla versione arcade sulla super gun titolo che amiamo tantissimo la musica è la parte fondamentale del gioco soprattutto la sigla iniziale creata da yamane è un opening molto potente e molto trascinante il gioco si finisce imprevemente soprattutto in due ma quello che dura merita di essere giocato devo dire che non è giocato qua retro ridicola su una super gun quindi una console che è strappolata da un cabinato che è un cabinato essenziale dove al connettore jamma e sui joypad ci permette di giocare oltre a double dragon tutte le schede jamma quelle dei cabinati con vari adattatori abbiamo detto tutto del gioco quindi ora non ci resta che salutarci quindi ciao da mauro e dal nostro amico otomatone ciao 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 ciao